Siamo alla tabaccheria Macario, in Piazza Costituente, dove sono stati vinti sabato con l'estrazione di 10 e 8, 50 mila euro. Il fortunato vincitore potrebbe essere un venariese? Come potrebbe essere una persona di passaggio? Nel questo non lo sappiamo, però abbiamo potuto verificare dai tabulati delle vincite che è stata effettuata qui una vincita da 50 mila euro.